A Pescara le polemiche mettono o tolgono radici. Da una parte le scelte del comune, sostenute da agronomi e forestali, dall'altra le associazioni ambientaliste. Se la decisione di tagliare un albero è pur sempre sofferta, dice il dottore forestale delegato al verde con le rossi, è anche vero che sia una pianta malata o pericolosa e un dovere tutelare l'incolumità umana. Le associazioni ambientaliste però vogliono vederci chiaro. Simona Barba, Italia Nostra, ha precisato che a domanda il comune non ha risposto su quanti alberi siano stati tagliati, perché e quanti ne saranno abbattuti. L'albero in città ha una vitalità ridotta rispetto a un albero fuori dalla città, quindi in campagna e montagna e chiaramente crescono male e campano di meno. Quello che si sta facendo a pescare è sostanzialmente la sostituzione di piante morte o deperienti, soprattutto di leccio, dove purtroppo per vincoli legati al divieto di utilizzare insetticidi, nell'ambito urbano da parte del ministero, non si sono potuti curare queste piante da una cocciniglia che è il chermococco vermiglio che porta a morire tutte le piante. Quindi qual è la strategia del comune? Il comune con i suoi tecnici ha comunque dovuto sostituire delle piante morte che non danno più servizi ecosistemici, benefici sia per il clima che per la salute umana. E nello stesso tempo sta optando per la sostituzione per piante più resistenti che non vanno trattate, non sono suscettibili a parassiti e sono compatibili con l'ambito urbano. Le associazioni ambientaliste chiedono di essere coinvolte e l'istituzione di un tavolo in comune. Un albero adulto ha dei benefici, noi li chiamiamo servizi ecosistemici, che non si possono paragonare alle nuove pentumazioni. La vera compensazione, ma non è neanche una vera compensazione, di un albero adulto sarebbero 100 piccoli alberi nuovi. Noi abbiamo l'isola di colore fra due mesi. Come ci difenderemo? Hanno dichiarato guerra poi a, quasi una guerra etnica, chiamiamola così, al Pino e al Leccio. Se si chiama Leccio lo stanno buttando giù, se si chiama Pino stanno cercando di buttarlo giù, per quanto sia identitario. Non è possibile andare avanti così contro la logica e soprattutto contro il poco tempo che abbiamo. Ci sarà una grande manifestazione sabato prossimo, 50 all'incirca le associazioni che parteciperanno, appuntamento alle 11, piazza Sacro Cuore Pescale. Sì, è proprio una grande festa dalla città per la città, perché sono tutti movimenti organizzati, spontanei. I cittadini hanno capito quanto è importante tutto ciò che è verde, quanto è importante la permeabilizzazione del suolo, quanto sono importanti gli alberi, perché è importante l'aria. Grazie. 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 Grazie.